Ferite, e questo è il titolo dell'evento messo in scena dal regista Aldo Rapè, è nato da un'idea di Pina D'Amo, organizzato dall'Innerwill Club Nisseno. L'obiettivo è quello di sostenere il centro antiviolenza e stalking galatea di Caltanissetta, attraverso la possibile realizzazione di progetti rivolti proprio alle donne e alla loro rinascita anche dal punto di vista lavorativo. Un appuntamento, quello del 24 novembre, che coinvolgerà il pubblico alla vigilia della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Il nostro è un club al femminile e quindi ci occupiamo essenzialmente di donne e ci è sembrato naturale inserire nella nostra programmazione un evento che celebrasse la giornata contro la violenza sulle donne. Insieme ad Aldo Rapè abbiamo progettato un'idea, un progetto scenico per richiamare l'attenzione su quello che è un fenomeno tristemente noto. Sicuramente cercheremo appunto di sensibilizzare l'opinione pubblica su quella che è appunto la gravità del fenomeno e cercheremo appunto di evitare che si spengano i riflettori su questo tema che risulta appunto sempre più diffuso. Giornalmente infatti le cronache sono funestate da notizie di femminicidi. Il progetto appunto oltre a richiamare questa violenza che a volte è fisica, molte volte è psicologica, ma anche lamentata soprattutto nell'ambito lavorativo sotto forma di molestie, tende in qualche modo a dare attraverso dei monologhi e dei dialoghi quello che è appunto la gravità del fenomeno. Non si tratta dell'unica iniziativa in programma per il Club Nisseno che si impegna su più fronti, come ad esempio per il contrasto alla dispersione scolastica. A fine mese si prevede infatti la consegna di una borsa di studio intitolata da Anna Mario Berto Danesi, appartenente al club e recentemente scomparsa. Un sostegno che permetterà ad uno studente o studentessa dell'indirizzo linguistico del liceo Ruggiero VII di effettuare uno stagio all'estero. O ancora, dopo la conferenza sulla frutta martorana delle scorse settimane, il club ha raccolto i fondi necessari per l'acquisto di racchette da tennis da donare ad un'associazione sportiva. E poi attenzione anche alla promozione culturale con un ciclo di incontri letterari che comincerà proprio questo sabato. Abbiamo scelto e selezionato delle scrittrici siciliane che parlassero appunto di donne. Sabato inizia il primo appuntamento con Francesca Maccani che presenta il suo romanzo Le donne dell'acqua santa in cui si parla appunto di una vera amicizia tra due donne che vivono nella Palermo della fine dell'Ottocento ed è anche questo un romanzo che chiaramente sottolinea quella che era la condizione della donna alla fine dell'Ottocento in Sicilia. Però anche questo insomma si conclude con una sorta di sodalizio tra le donne che è il messaggio che vogliamo lanciare noi.